Ciao e benvenuto o benvenuta naturalmente all'interno di questo nuovo video nel quale continueremo a parlare di HRV quindi uno dei parametri più importanti all'interno del mondo del biohacking, dell'ottimizzazione della salute e andremo a vedere un mio caso studio specifico, cioè vi riporterò quella che è stata la mia esperienza con questo dato quindi un caso molto particolare che mi è capitato più o meno circa un anno fa Per chi non mi conoscesse mi presento velocemente, io sono Roberto Bombaggi, fisioterapista fondatore di Fisiomagazine.com e all'interno di questo canale divulgo argomenti che spaziano dalla scienza all'ottimizzazione della salute e per l'appunto il biohacking Bene, all'interno di questo video non andremo ad approfondire nel dettaglio cos'è l'HRV perché trovate sempre qui nel mio canale una guida completa all'HRV che vi lascio qui sotto in descrizione e qui sopra vi dovrebbe star comparendo il link da qualche parte quindi se non sai cos'è l'HRV prima recupera quel video e poi torna a vedere questo caso studio Però diciamo giusto due parole cos'è l'HRV quindi per HRV si intende banalmente la variabilità della frequenza cardiaca cioè la variabilità che c'è nell'intervallo tra un battito e l'altro del nostro cuoricino e più in generale possiamo dire che più questa HRV è alta quindi più c'è variabilità tra i nostri battiti più questo è un indice positivo quindi un indice di benessere psicofisico maggiore più invece questa variabilità sarà bassa più ovviamente sarà un segno opposto e quindi un segno di scarso stato di forma infatti l'HRV per dirla in termini molto semplici è stato definito come un indice di benessere psicofisico generale cioè un indice che è in grado di dirci quanto siamo in grado in questo determinato momento della nostra vita di gestire lo stress a cui siamo sottoposti all'interno della nostra vita quotidiana e quindi ora andiamo a vedere all'interno del mio computer il mio caso specifico che mi ha visto coinvolto e come ho gestito i miei livelli di HRV riportandoli ad un livello ottimale quello che vedete è un grafico che si trova all'interno della mia app HRV for Training che è l'applicazione con la quale ovviamente sto monitorando i miei livelli di HRV l'applicazione anche di cui sono ambassador è una delle strumentazioni veramente più semplici con la quale monitorare i nostri livelli di HRV nonché è sicuramente la più economica ed accessibile a tutti infatti costa semplicemente una decina di euro senza nessun abbonamento mensile per il piano base ovviamente queste misurazioni potete farle anche con altre strumentazioni sicuramente anche più all'avanguardia come ad esempio l'ora ring insomma trovate tutto all'interno del video che vi lascio linkato qui in descrizione bene il grafico che vedete a sinistra, quello con la linea verde è il periodo di misurazioni nel quale mi trovavo a Bali infatti circa un anno fa, circa ad aprile, a fine di aprile, inizio maggio sono andato, mi sono trasferito a Bali quindi in Indonesia per cercare di indagare quali aspetti dello stile di vita orientale potessero influire sulla nostra salute, sul nostro dolore, sul nostro stile di vita insomma monitorando come abitudine i miei livelli di HRV mi sono accorto di una cosa molto particolare ovvero che nel periodo di permanenza in cui sono stato a Bali, circa due mesi la mia HRV piano piano ha iniziato a salire ha iniziato ad incrementare verso l'alto sino a raggiungere dei livelli che non avevo mai ottenuto ora facciamo subito un piccolo disclaimer non comparate i miei dati con quelli di un'altra persona o con i vostri perché questo non ha alcun senso infatti se compariamo i miei dati con quelli di un'altra persona potrebbero sembrare molto più bassi, molto più alti perché l'HRV è un parametro personale sul quale non possiamo fare delle correlazioni con altre persone o con altre fasce d'età perché è estremamente soggettivo e dipende da milioni di fattori quindi mi raccomando, è fondamentale non comparare questi parametri con te stesso con i tuoi o con quelli di un'altra persona insomma comunque quando mi trovavo a Bali ho visto questo andamento crescente nei miei livelli di HRV dopodiché quando sono tornato invece in Italia quindi sono tornato ad Alghero nella mia città dove abito vedete che ho iniziato a monitorare nuovamente l'HRV il buco e mezzo semplicemente perché era estate quindi mi dimenticavo di monitorare l'HRV però insomma quando sono tornato ad Alghero ho monitorato invece un andamento estremamente decrescente quindi la mia HRV dopo essere salita moltissimo quando sono tornato in Italia ha iniziato a scendere notevolmente eppure mi chiedevo il perché di queste cose perché fondamentalmente le cose che facevo a Bali e che facevo qui in Italia, qui ad Alghero erano esattamente le stesse le cose che facevo ogni giorno quindi le mie routine erano più o meno sempre le stesse ho continuato a lavorare anche quando ero a Bali anzi paradossalmente lavoravo molto di più ho prodotto molti più contenuti ho seguito le persone a distanza il mio stile di vita era pressoché identico mi allenavo allo stesso modo andavo sempre in una palestra di crossfit insomma era tutto più o meno nella norma e quindi non mi spiegavo il perché di questi dati così contrastanti tra la mia permanenza Bali e invece il mio ritorno ad Alghero e quindi ho iniziato ad indagarmi sulle possibili risposte a questi grafici quindi ho iniziato a chiedermi cosa diavolo facevo ho fatto di diverso a Bali che mi ha consentito di aumentare i miei livelli di HRV in quel modo e cosa invece mancava qui nella mia città che invece mi portava a diminuire i livelli di HRV in questo modo quindi ho iniziato a farmi delle domande ho iniziato a darmi delle risposte ho iniziato a fare delle associazioni e alla fine sono giunto ad una conclusione che ovviamente è la mia conclusione personale con cui poi mi sono confrontato anche con altri professionisti è che può effettivamente avere una sua logica ovviamente questa non è da prendere come una verità scientifica sappiamo sicuramente che quello che sto per dirvi ha delle notevoli influenze sull'HRV però insomma prendetelo come un semplice caso studio sulla mia esperienza personale bene quello che ho notato quello di cui mi sono reso conto della differenza tra i miei livelli di HRV di quando stavo a Bali e di quando invece sono tornato qui ad Alghero non erano le mie routine non era quello che facevo in termini di lavoro in termini di gestione dello stress perché abbiamo detto che era più o meno tutto nella norma facevo sempre le stesse cose ma invece la risposta l'ho trovata nell'ecosistema in cui ero immerso e non mi riferisco all'ecosistema inteso come l'ambiente in cui ero immerso perché è vero che sicuramente a Bali ero immerso in un ambiente più naturale da un certo punto di vista e quindi sicuramente il contatto con la natura agevola la gestione dello stress ma in realtà anche qui ad Alghero mi trovo in un ambiente naturale perché Alghero è una città sul mare io ho la fortuna di avere proprio la casa di fronte al mare quindi una delle mie abitudini è quella sempre di fare passeggiate in spiaggia in pineta insomma sto tanto a contatto con la natura quindi difficilmente ho trovato la risposta in questo fattore ma più che altro mi riferisco all'ecosistema inteso proprio come persone da cui ero circondato la qualità delle relazioni e dei rapporti che riuscivo a creare i luoghi e gli ambienti in cui mi emergevo le emozioni che vivevo infatti Bali più in generale tutto il mondo orientale è sicuramente estremamente diverso da questo punto di vista rispetto a come siamo noi in Italia ma più in generale in occidente infatti la qualità delle persone delle relazioni intesa come gentilezza inteso come senso di dare piuttosto che voler ricevere tutti questi fattori che hanno a che fare con il nostro ecosistema con le nostre relazioni con la nostra gentilezza giocano un ruolo importantissimo anche sulla nostra fisiologia e sulle nostre risposte fisiologiche e molto probabilmente la conferma me l'ha data la mia HRV e quindi ho supposto che il problema di questa disparità tra i miei livelli di HRV fosse proprio questo ovvero che a Bali ero immerso in un ecosistema completamente differente in cui non avevo persone tossiche in cui non avevo persone che magari andavano contro di me che mi insultavano solo per invidia insomma non c'erano tutti questi stereotipi questi luoghi comuni a cui purtroppo siamo sottoposti qui in Italia perché c'è una mentalità dal punto di vista relazionale completamente differente rispetto alla nostra e quindi ho proprio supposto che il motivo potesse essere questo e per confermarlo ho voluto ricreare provare a ricreare lo stesso ambiente che ho vissuto a Bali ovviamente qui in Italia infatti non potevo di certo andare a trasferirmi in Oriente per vedere i miei livelli di HRV risalire nel tempo quindi purtroppo sto cercato di dimostrare a me stesso che io potevo raggiungere quegli stessi livelli anche stando sempre qui in Italia o nella mia città e quindi ho deciso di organizzare il mio ecosistema in modo da rendere il più possibile simile a quando stavo in Indonesia quindi ho deciso di allontanare tutte le persone negative di non farmi più influenzare dagli altri nel bene o nel male di fare le esperienze che volevo quando volevo anche e soprattutto da solo una cosa che qua sembriamo degli alieni se andiamo al ristorante da soli al bar da soli perché? perché non sappiamo stare bene con noi stessi invece lì è la normalità e quindi ho iniziato a fare anche questo fregandomene del giudizio altrui ho imparato di dire no a tutte quelle cose quindi a quei lavori, quegli impegni, quelle situazioni in cui magari una volta avrei detto di sì solo per paura di ricevere un giudizio o un insulto o qualsiasi altra cosa quindi in altre parole ho iniziato a vivere come cavolo volevo io e tutto questo devo essere sincero lo devo anche a questo fantastico libro di Mark Manson che si chiama appunto la sottile arte di fare quello che cazzo ti pare quindi insomma ho provato a ricreare lo stesso ambiente che ho vissuto a Bali qui ad Alghero e guardate un po' i risultati che ho ottenuto come vedete dopo essere scesi da quando ho iniziato l'esperimento i miei livelli di HRV sono saliti enormemente sono schizzati verso le stelle e sono giunto addirittura ad un punto superiore in quello in cui ero arrivato a Bali e questo è dimostrazione del fatto come il nostro ecosistema come le nostre relazioni giochino un ruolo estremamente importante sulla nostra salute e questo l'ho proprio monitorato dei miei livelli di HRV perché tutto il resto più o meno era rimasto nella norma era rimasto uguale non ho cambiato nulla per evitare di influenzare troppo questo esperimento ma semplicemente ho cercato di cambiare il mio ecosistema e il mio rapporto all'ecosistema e questi sono i risultati che ho ottenuto come vedete a sinistra c'è il prima a destra c'è il dopo e guardate una cosa molto interessante quei cerchi arancioni sono dei semplici picchi verso il basso che hanno a che fare con la nostra ciclicità esistenziale cioè noi dobbiamo imparare a ragionare a trend cioè non possiamo pensare che tutto cresca linearmente ed esponenzialmente piuttosto dobbiamo metterci in testa che in un percorso di miglioramento avremo sicuramente dei momenti che andranno un po' meno meglio e dei momenti che andranno invece meglio ma la cosa importante è non fermarci quando scendiamo verso il basso perché noi siamo governati da questa ciclicità esistenziale quindi avremo degli alti e dei bassi ed è assolutamente normale e non possiamo fare nulla per eliminare questa ciclicità perché fa parte dell'esistenza umana quindi piuttosto dobbiamo esserne consapevoli ed essere in grado di rialzarci quanto più velocemente possibile e quindi non di guardare con lo zoom il singolo dato ma piuttosto guardare il trend perché se io mi fossi soffermato su questi due cerchi arancioni quindi su dei periodi in cui la mia HRV è scesa perché magari gestivo peggio lo stress momenti di lavoro, di allenamento più intensi magari avrei mollato la mia sfida invece sono andato lungo la mia strada cosciente del fatto e consapevole del fatto che questo mi avrebbe portato dei risultati e quindi ho continuato a progredire ho continuato a migliorare nel tempo a prescindere dal dato del singolo giorno e come vedete alla fine c'è stato un trend crescente che mi ha portato a raggiungere dei livelli ottimali di HRV che attualmente ovviamente ho cercato di stabilizzare tenerli stabili nel tempo pur essendo immerso in un ecosistema che sino a prima mi aveva sempre consentito di avere dei livelli HRV estremamente più bassi quindi questa è la conferma di come la nostra salute la nostra biologia le nostre risposte fisiologiche siano dannatamente influenzate anche dalle nostre relazioni sociali e dall'ecosistema in cui ci immergiamo questo è il motivo per cui tendo sempre a vedere come pilastro della nostra salute anche le relazioni sociali quindi va bene il sonno va bene il mindset va bene l'esercizio il riposo la gestione dello stress la nutrizione ma dobbiamo esterire anche la cura delle nostre relazioni sociali perché guardate i cambiamenti dell'HRV cambiando solo il mio approccio alle mie relazioni e al mio ecosistema ovviamente questo non è un esperimento scientifico è semplicemente la mia esperienza che ho voluto riportare con voi per magari cercare di darvi qualche spunto pratico che potete riportare sicuramente o riprovare a riprodurre all'interno della nostra vita io vi ringrazio se avete visto questo video fin qui se siete arrivati fin qui spero di avervi dato qualche spunto utile da riportare o da riprodurre provare a riprodurre all'interno della vostra vita e come sempre se volete supportarmi vi invito ad iscrivervi al mio canale lasciare un like e condividere il video con chi pensate possa averne bisogno io ti saluto e come sempre ti aspetto nel prossimo video per continuare a scoprire la scienza che ci aiuta a vivere meglio più in forma e più a lungo ciao